In Svizzera, molti uffici pubblici forniscono informazioni gratuitamente. Questi dati sono accessibili su Internet. La Segreteria di Stato dell'Economia a seco mira a favorire un miglior utilizzo di questi dati. Ecco perché nel quadro della strategia E-Government Svizzera è stata elaborata una nuova offerta, il Linked Data Service o semplicemente l'Indas. Il servizio offre dei dati che possono essere collegati fra di loro automaticamente. In questo modo l'Indas crea un valore aggiunto. Guardiamo a questo proposito il seguente esempio. La signora Rochard abita in una città abbastanza grande e soffre a causa dei gas di scarico. Per questo motivo vorrebbe vivere nel comune vicino al suo domicilio attuale, dove i valori di polveri fini sono particolarmente bassi. Potrebbe contattare l'Ufficio federale dell'Ambiente o cercare i valori della qualità dell'aria nei comuni limitrofi su Internet. Tutto è comunque più semplice con l'app di GeoModello SA. La signora Rochard inserisce il suo luogo di domicilio e ottiene i valori desiderati. Per la signora Rochard e per molti altri consumatori di dati, questa applicazione è molto pratica. È stata creata da un cosiddetto utilizzatore di dati. Si tratta di specialisti in informatica, di imprese o di istituzioni, che grazie all'Indas sono in grado di collegare sistematicamente determinati dati e di mettere i risultati a disposizione del pubblico. Nel nostro esempio, il signor Bernasconi di GeoModello SA ha abbinato i nomi dei comuni ai valori della qualità dell'aria. Un giorno il signor Bernasconi ha dovuto definire con l'Indas un rilevamento. Da allora i dati desiderati vengono collegati fra di loro e preparati per l'applicazione. A questo proposito, vengono utilizzati automaticamente i dati più recenti. Al signor Bernasconi viene dunque risparmiato il lavoro amministrativo con i proprietari dei dati. I proprietari di dati sono per lo più autorità o altre istituzioni pubbliche. Nel nostro esempio, l'Ufficio federale di Statistica e l'Ufficio federale dell'Ambiente. Dispongono di dati in diversi formati che mettono a disposizione del pubblico sulla base dello standard V3C. Ciò avviene in modo semplice e flessibile. L'utilizzatore di dati può ora formulare, grazie all'Indas, tutti i tipi di ricerca. Egli può collegare la ricerca con altri dati e riutilizzare i risultati in varie applicazioni. Per i proprietari di dati è importante sapere che, nel caso di una ricerca, i dati di riferimento restano nelle mani del proprietario di dati e non vengono modificati. Da questi dati vengono create unicamente delle copie collegabili che vengono successivamente combinate con altre copie. L'esempio di GeoModello SA dimostra che, per lei come utilizzatore di dati o come proprietario di dati, l'Indas è un servizio più che convincente. Può preparare più facilmente i dati che sono accessibili liberamente, collegarli in modo intelligente e utilizzarli a piacimento, anche per scopi commerciali. Visiti il sito ilgovernment.ch barra l'Indas e troverai informazioni per i suoi prossimi passi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.